Italia 1980. Alcuni eventi notevoli includono la pubblicazione del romanzo Il nome della Rosa di Umberto Eco, l'assassinio di Pier Santi Mattarella da parte della mafia, il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca da parte degli Stati Uniti e l'eruzione del Monte Sant'Elens. L'assassinio di Vittorio Bachelet da parte delle Brigate Rosse, l'inizio della guerra tra Iran ed Iraq e l'elezione di Ronald Reagan come presidente degli Stati Uniti. Musica. La trentesima edizione del Festival di Sanremo si è svolta dal 7 al 9 febbraio 1980. Il Festival è stato presentato da Claudio Cecchetto e ha visto Roberto Benigni e Olimpia Carlisi come co-conduttori. Il vincitore del Festival è stato Toto Cutugno con la sua canzone Solo noi. Film con maggiore incasso. Il ritorno dello Jedi è un film del 1980 diretto da Erwin Kershner ed è il secondo film della saga di Star Wars. Segue la storia di Luke Skywalker, che viene inviato da Obi-Wan Kenobi per allenarsi con il maestro Jedi Yoda.